Un consiglio comunale aperto ai cittadini, alle associazioni, agli ordini professionali e a chiunque voglia intervenire per proporre idee e suggerimenti per la riqualificazione di Piazza Libertà. Venerdì mattina alle ore 9 in Piazza del Popolo si discuterà del futuro della piazza centrale della città e sarà prodotto un verbale con tutte le proposte da allegare al bando del progetto che anche se non sarà vincolante avrà valenza di studio e confronto per gli addetti ai lavori. Noi accogliamo l'esigenza di coinvolgere i cittadini, i portatori di interesse nella elaborazione appunto di una proposta per Piazza Libertà che poi venga consegnata come materiale di conoscenza ai progettisti della piazza. Finora c'è stato un deliberato del consiglio comunale, un elevato dibattito pubblico attraverso giornali e organi di informazione, c'è stato un convegno promosso dalla presidenza del consiglio comunale con gli ordini su questo tema. Ora bisogna ascoltare i singoli cittadini ma i rappresentanti di associazioni ambientaliste, le sovrintendenze, di nuovo gli ordini perché noi vogliamo offrire oltre al deliberato del consiglio comunale già realizzato anche l'idea che hanno di quello che è stata e che sarà la piazza dei singoli avellinesi. Perciò io invito tutti a partecipare venerdì mattina alle 9 in Piazza del Popolo perché ognuno avrà la possibilità di intervenire e di fare la sua proposta per la piazza. Al di là di alcune perplessità, una decisione che ha coinvolto anche tutte le opposizioni? Guardi, noi abbiamo dispensato un ordine del giorno all'unanimità che ha dettato alcuni principi cardine, per esempio la piazza dovrà essere prevalentemente pedonalizzata, bisogna ricreare il rapporto che c'era anticamente tra il corso Vittorio Emanuele e il centro storico, va valorizzato il lato della piazza, la quinta dove ci sono i palazzi storici, vanno recuperati anche aggiornandoli gli elementi che hanno caratterizzato la piazza nel Novecento come il verde, i filari dei lecci, immagino l'acqua con le fontane, ma ovviamente riportate in una condizione moderna e di fruibilità diversa da parte della città di Danza. Il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Gengaro, con tutti i capogruppo ha così illustrato le modalità di svolgimento della seduta di venerdì, pensata con l'opposizione per restituire ai cittadini un luogo fruibile che faccia da unione tra Corso Vittorio Emanuele e il centro storico, come ha sottolineato il capogruppo del PDL, Giovanni D'Ercole. È significativo il fatto che il giorno 19 ci sarà questo consiglio aperto nel quale tutti gli avellinesi potranno intervenire a dire la loro per 5 minuti sulla piazza e questa loro esplicazione sarà contenuta come verbale nel bando di concorso per la progettazione, quindi i professionisti che dovranno lavorare sulla piazza dovranno necessariamente studiare questo spaccato della società avellinese e dovranno tener conto. Credo che sia la maniera migliore per rendere la piazza libertà la piazza degli avellinesi.